I giornalisti continuano ad essere nel mirino della mafia e non solo. Si tratta di una esigua minoranza ovviamente rispetto al numero degli iscritti all'ordine, ma il fenomeno è molto più diffuso di quanto possa immaginarsi ed è in crescita del 100% rispetto a pochi anni fa. E questo tipo di censura violenta, come scrive Alberto Spampinato, non riguarda solo le regioni tradizionalmente ad alto tasso di criminalità. In Puglia i casi di intimidazioni segnalati nel bienio 2009-2010 nel rapporto dell'Osservatorio Ossigeno per l'Informazione sono 4 su un totale di 78. I giornalisti coinvolti complessivamente sono circa 400. Peggio della Puglia in Italia stanno solo Calabria, Conventi, Lazio, Sicilia, Campania e la Lombardia, dove ormai le infiltrazioni dell'Andrangheta sono un dato acquisito. I giornalisti pugliesi finiti nel mirino sono Alessio Di Palo, direttore della piccola Radio Reggio di Altamura, che ha subito percorsi a cui è stata incendiata l'auto. Angelo Ciavarella, corrispondente da San Severo della Gazzetta del Mezzogiorno, a cui hanno incendiato la macchina. Stessa sorte toccata a Gianni Lannes, freelance foggiano, sotto protezione dal 22 dicembre del 2009. E infine il pubblicista e criminalista Michele Cagnazzo, a cui hanno inviato un proiettile. Non tutte le intimidazioni sono ad opera della criminalità. Il lucano Nello Rega, autore di un libro sull'Islam, ha subito diverse minacce e ultimamente hanno sparato contro la sua auto. Segnali chiari di un indebolimento del diritto di cronaca e al tempo stesso di un assottigliamento degli spazi democratici.